Siamo alla Sapienza per il convegno organizzato da Istat, la Società Italiana delle Grandi Crisi Economiche del 1929-2016. Il professore Eugenio Gaudio, rettore dell'Università, ci presenta l'evento. Noi siamo molto lieti innanzitutto che l'evento si svolga qui in Sapienza, anche perché il presidente attuale dell'Istas, il professore Arleva, è un nostro illustre docente. Facciamo gli auguri all'Istat per questi 90 anni e per i prossimi. L'Istat ha descritto in questi anni la realtà del paese con i suoi numeri. Un paese che è cambiato profondamente, un paese 90 anni fa agricolo con una grande quantità di analfabeti e che oggi è invece una delle prime potenze industriali del mondo. Quindi è un progresso, direi anche tumultuoso in alcune fasi. L'Università vuole essere a fianco nello studio dei fenomeni, nella comprensione dei fenomeni passati e anche nella capacità poi di immaginare il futuro in un momento in cui il mondo è in evoluzione, in cui l'internazionalizzazione e la globalizzazione mettono in discussione tutti i punti fermi su cui anche lo sviluppo del paese si è basato negli ultimi decenni. Grazie.